Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video! Oggi siamo qui per scoprire insieme i Kitties Friends ragazzi che ci ha inviato gentilmente la Sbabam che ringraziamo tantissimo! Di che cosa parliamo? Parliamo di peluscini ragazzi che possono essere o dei gattini o dei coniglietti L'infezione costa 3,99 euro e ricordatevi sempre di prendere anche il magazine e si trovano in tutte le edicole Allora questo è il magazine, Doki Doki Kitties Friends poi i gatti da sempre accanto a noi 5 cose da sapere sui gatti wow ma che cose interessanti Kimi, gatto vichingo oh che bello questa è una storiella ui Diamond Melmito Slime ragazzi Pearl Edition li abbiamo recensiti insieme prodotto meraviglioso e poi qui ci sono le attività ui guardate Gratta il grattagraffia che trovi nella casetta dei Kitties Friends scopri il loro cibo preferito e completa lo schema all'interno di ogni confezione troveremo un adesivo da grattare e poi li attaccheremo qui ragazzi qui altre attività unisci puntini e nulla questo è il magazine ok ragazzi di che cosa stiamo parlando? parliamo di gattini che sono dei peluscini troppo carini e non solo perché ci sono anche i rari che sono dei coniglietti ok ragazzi dalla confezione possiamo già vedere che abbiamo trovato allora qui abbiamo Ellie Spice Zucchero e Artù da quale partiamo? quali apriamo per primo? ok quello rosa quello col pelo rosa vediamo un po' ragazzi sono iper mega curiosa vediamo un po' che bello ragazzi guardate è rosa con questa macchia rossa ma le orecchie vogliamo parlare delle orecchie sono a parte che sono morbidose e poi sono super glitterose sono meravigliose mi sono innamorata allora vediamo poi all'interno che cosa abbiamo abbiamo lo stickers da grattare di cui vi parlavo prima da attaccare nella nostra paginetta nel magazine e poi abbiamo il nostro foglietto qua c'è tutta la checklist dei nostri Kitties Friends e nulla che dire ci sono quelli speciali che tipo sono più batuffolosi più pelosi e poi abbiamo i rari insomma gli speciali che sono fatti a coniglietto ragazzi wow chi abbiamo trovato noi? noi abbiamo trovato Spice il mio compleanno è il 16 maggio i miei amici sono Steffi e Debbie che sono loro due sono una tenera e simpatica gattina mi piace giocare divertirmi e stare insieme ai miei amici mi piace quando mi fanno le coccole che è carino e dietro ragazzi abbiamo il certificato di adozione questo attestato certifica che il vostro nome ha ufficialmente adottato il nome del Kitties Friends e si impegna a cocolarla e a proteggerla riempendola d'amore e di carezze firma e data wow ragazzi non ho parole qua vediamo il nostro adesivo da grattare che è già stato grattato un pochino vai amore gratta vediamo un po' wow ragazzi c'è un croissant una brioche ragazzi andiamo sul nome di Spice e attacchiamo vai amore attaccalo qua si esatto e lo attacchiamo nella sua sagomina ecco qui ragazzi che bello ok questo è il suo cibo preferito e andiamo a scoprire gli altri e quali sono i loro cibi preferiti ragazzi prossimo Kitties Friends Ellie vediamo Ellie com'è mamma mia wow che meraviglia guardate ragazzi ha gli occhi super glitterosi blu e le orecchie super glitterose rosa con questo ciuffetto fucsia fantastico che morbida è morbidissima il suo adesivo da grattare con il suo cibo preferito e poi andiamo a vedere le sue caratteristiche il suo compleanno è il 10 settembre i suoi amici sono Amelie e Cami sono una simpatica gattina molto spiritosa e sempre pronta a far festa quando vedo la mia ciotolina piena di latte mi precipito e corro a berlo tutto oh che carina è bellissima per ora questa è la mia preferita è troppo bella anche la tua ok ragazzi direi di grattare queste due sì queste due sono belle tutte e due certo fantastiche non avevo detto che lei ha gli occhi glitterati oro fantastico ok grattiamo il cibo preferito di Ellie vediamo che cos'è sono molto curiosa eh sì già lo anticipava nelle curiosità con la ciotolina di latte il latte è il suo cibo preferito ok adesso prendiamo anche il tuo ok adesso prendiamo il magazine e attacchiamo dove c'è scritto Ellie dove è Ellie eccola qui oh e vabbè fa niente fa niente non ti preoccupare ok prossimo Kitty's Friends Artù vediamo un po' Artù chi è sono molto curiosa oh mamma oh mamma ragazzi abbiamo trovato il coniglietto ma che dolce ma che dolce guardate il nasino e gli occhi super glitterati blu azzurri e le orecchie azzurre meraviglioso guardate come sono lunghe ma la cosa che mi ha fatto uscire di testa è questa il pon pon la codina c'è ma ragazzi non ho parole questo dovrebbe essere un raro sì vero questo è un raro perché è un coniglietto vediamo un po' ragazzi abbiamo trovato Artù che è speciale perché è un coniglietto allora il suo compleanno è il 13 agosto i suoi amici sono Spike e Zucchero allora sono un bellissimo coniglietto mi piace giocare con i miei amici e amo nascondermi e non farmi trovare il mio frutto preferito è l'ananas vediamo un po' nell'adesivo se c'è l'ananas come penso sì c'è l'ananas ottimo ok adesivo attaccato sul nome Artù ecco qui il nostro ultimo Kitty's Friends è Zucchero i colori sono oh ecco ho visto un occhio ho fatto così ho visto l'occhietto wow che vero sembra sono colori unicornosi questi mi piacciono molto vai amore apri qua oh mamma mia questo è il mio preferito eh stavo dicendo anch'io che forse era il mio preferito vediamo vediamo wow ragazzi bellissimo wow ragazzi è meraviglioso meraviglioso wow 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 guardate con questo colorino bellissimo unicornoso un po' azzurrino chiaro e un po' lilla è fantastico nasino blu e orecchiette azzurrine super glitterose è fantastico mi piace tantissimo è bellissimo andiamo a vedere le sue curiosità e poi sai che si chiama azzucchero questo quindi anche il nome è il mio preferito perché è dolcissimo anche il nome ok allora azzucchero il mio compleanno è il 5 luglio i miei amici sono Spike e Artù eccoli qui sono un gattino un po' furbacchione spiritoso mi piace fare gli scherzi e farmi delle grandi risate il mio cibo preferito è il latte anche il suo è il latte vediamo se c'è un cartone del latte come prima nell'adesivo da grattare è sempre latte come nel caso di Ellie ma in questo caso è diverso proprio la confezione del latte guardate questo è il latte di zucchero dove è zucchero zucchero quindi va attaccato qui sotto abbiamo fatto tutto alla riga si abbiamo fatto tutto alla riga è vero assurdo ed ecco qui ragazzi i nostri Kitties Friends fatemi sapere che cosa ne pensate di questi Kitties Friends a noi sono piaciuti veramente veramente tanto e nulla vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i nostri prossimi video e ci vediamo al prossimo video ciao ciao